Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli mostra online, sui social e sulla pagina YouTube del Mibact, un'anticipazione virtuale della mostra fotografica dal titolo Sing Sing, il corpo di Pompei di Luigi Spina. Le immagini mostrano alcuni preziosi reperti conservati nei depositi del Mann, nelle famose celle dei sottotetti del museo, definiti negli anni 70 Sing Sing come il carcere di massima sicurezza americano a nord di New York. Uno sguardo in bianco e nero tra lucerne, candelabri, vasellame e bronzi, testimonianze affascinanti della vita quotidiana nelle città vesuviane. Un filmato dunque per anticipare al pubblico l'impegno del museo nel riorganizzare e rendere fruibili i depositi Sing Sing. I depositi infatti saranno anche oggetto di visita da parte di gruppi guidati appena sarà possibile.